Saranno dei bei momenti, allora Edwin è sul Mirko, sul tracciato blu, Mirko su quello rosso e allora sono loro, loro che si hanno infatti intusiasmare, oggi durante tutta la giornata e pare che Edwin abbia una marcia in più, ma sappiamo che Mirko, quando si tratta di tagliare il traguardo mette la settima, l'ottava, la dodicesima marcia e allora adesso sono appagliati, sono appagliati un leggero vantaggio ancora per Edwin, però non significa niente perché la finish, il traguardo adesso al filo di lana, oddio, allora al terzo posto Edwin Coratti, terzo per un soffio, ce l'ha messa tutta Grazie a tutti